60, da bene nulla 60 il signore sta facendo il video io stai mentre questo fa uè non ci lo questo facciamo pure i colli prego facciamo pure i colli che stanno fuori che cazzo? un pochino un pochino un pochino un pochino un pochino grazie signora ciao Davide buonessere arrivederci grazie arrivederci grazie prego si mi chiudi meglio il frigo? grazie ragazzi grazie no allora ok 3 euro grazie ragazzi grazie 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 grazie